Messaggio della Vergine Maria a Marte in Gavenda Sarete presto tutti avvelenati Questa apparizione celeste è una chiamata alla santità e alla protezione divina. L'unione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, guidata dallo Spirito Santo, diventa il simbolo di una forza sovrannaturale che si oppone al male presente in questo mondo corrotto. La Madre Celeste ci invita a cercare questa unità, a fondere le nostre vite con la virtù e la santità incarnate nei Sacri Cuori. La richiesta di protezione attraverso la preghiera fervente e la fede pura è un richiamo alla difesa contro le insidie di Satana, il cui odio e malvagità possono avvelenare le nostre anime. Leggiamo il Messaggio Figlioli, vedete il Sacro Cuore di Gesù unito al mio cuore immacolato. Sono uniti dallo Spirito Santo che si oppone allo spirito corrotto di questo mondo. Chiedete allo Spirito Santo di unirvi così strettamente ai nostri Sacri Cuori che le vostre vite diventino virtuose e sante, così come sono virtuose e santi i nostri Sacri Cuori. Proteggete le vostre anime con una preghiera fervente e una fede pura, affinché Satana non vi avveleni con il suo odio e la sua malvagità. I nostri Sacri Cuori e San Michele Arcangelo sono vicini a voi. Affidatevi alla nostra protezione. Figli miei, combattete e reprimete il male con la verità della fede. Vi immergo nell'amore del cuore di Gesù e del mio. Grazie a tutti.